E fare la guida ogni tanto mi diverte, ma... Non ci giocano a pallone qui. Devi fare attenzione a tutto. No, niente flash, eh? E questa è la statua di Marco Aurello. Ecco, tutto il giorno di corsa, pranzo, un panino e adesso non ci vedo più dalla fame. Ma per fortuna c'è la mia fiesta. Tutta sostanza e con un gusto che merita un monumento. Fiesta, nutre con piacere.